Stop a partire da questa sera alla circolazione ferroviaria tra Vallo della Lucania e Sapri a seguito dello svio di alcuni carri di un treno merci avvenuto presso la stazione di Centola lo scorso 9 luglio. Sospensione dunque della circolazione ferroviaria sulla linea Battipaglia-Sapri dalle ore 22 di oggi, 22 luglio, e fino a venerdì 26 luglio. Trenitalia ha reso noto che i treni frecce, intersite regionali, subiranno cancellazioni, limitazioni e ritardi. Le frecce che viaggiano verso sud determineranno la loro corsa a Salerno o a Battipaglia. Quelle che viaggiano verso nord e che partono da Reggio Calabria si fermeranno a Sapri. Per garantire il servizio del tratto interessato sono previsti collegamenti bus tra Salerno, Battipaglia e Sapri. Per tutta la durata dell'interruzione non circoleranno gli intercity notte delle tratte Milano-Siracusa, Torino-Reggio Calabria e Roma-Siracusa-Palermo ed alcuni intercity giorno della tratta Roma-Reggio Calabria e Roma-Siracusa-Palermo. Tutti gli altri intercity giorno circoleranno tra Roma e Battipaglia e tra Sapri e Reggio Calabria. E per garantire la continuità territoriale sono previsti anche collegamenti bus tra Battipaglia e Sapri. Tutti i treni dei regionali di Trenitalia saranno cancellati tra Valo della Lucania e Sapri, prevista una riprogrammazione del servizio con bus con possibile aumento dei tempi di percorrenza in relazione anche al traffico stradale e minore disponibilità di posti rispetto al normale servizio offerto. Trenitalia ha tenuto conto delle importanti ripercussioni sul servizio, invita tutti i viaggiatori a riprogrammare il viaggio e a consultare la pagina Infomobilità su Trenitalia.com e sull'app prima di recarsi in stazione è previsto il rimborso integrale del biglietto in caso di rinuncia di viaggio. Fanno sapere, da lunedì 26 luglio, frecce intersite regionali di Trenitalia riprenderanno a circolare gradualmente sulla linea Battipaglia-Sapri, ma la capacità di offerta tra Campania e Calabria continuerà ad essere ridotta e i treni potranno registrare ritardi e subire limitazioni di percorso o cancellazioni.